oh sono giovanotti ancora in diretta con l'agente della notte e questa sera una dedica personale la voglio fare io è per una ragazza che probabilmente sta ascoltando la radio in questo momento oh questo è per te vorrei che tu avessi un nuovo ragazzo vorrei che ti trattasse bene che ti facesse sentire importante e che ti bolle il sangue nelle vene quando ti aspetterà sotto il portone per fare un giro magari a cena mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me vorrei vedervi magari sposati che lui stesse sempre con te che ti facesse incazzare mai che non dimentichi i compleanni che sia simpatica ai tuoi genitori e che li faccia diventare nonni ma quando un giorno sarai lontana e verrà il cielo quando si colora pensami almeno per un momento pensami almeno per mezz'ora vorrei sapere come ti va, eh? ora che non stiamo più insieme che mi hanno detto che hai sofferto un po' che però ora stai bene certo all'inizio tutto era un pazzesco non smettevamo mai di stare a letto cacchio di combinarne di porcherie e guarda ora chi l'avrebbe detto esco di casa alle tre di notte con quattro amici ce ne andiamo a caccia per rimediare un amore facile che il giorno dopo non ricordo la faccia ma quando un giorno sarai lontana e vedrai il cielo quando si colora pensami almeno per un momento pensami almeno per mezz'ora e quando sono qui dentro al mio letto vuoto vorrei dormire non è facile quando non sai se sia possibile innamorarsi e non lasciarsi mai ma quando un giorno sarai lontana e vedrai il cielo quando si colora pensami almeno per un momento pensami almeno per mezz'ora e quando un giorno sarai lontana e vedrai il cielo quando si colora pensami almeno per un momento pensami almeno per mezz'ora va bene grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.